Dal palagiannese di Torino per la prima giornata di regular season della Serie 2 Girone Verde, un curale buonasera da Jacopo Bertone Questa è Reale Mutua, Basca e Torino Contro, bene a questa, assicurazioni latina Fatati Thomas, chiedo scusa a Fall Alzata per De Vico Un particolare di cui tenere conto Non ne tiene conto per nulla Romeo appena uscito dal time out Che mette subito due punti Kennedy Fa meglio di due e ne mette tre Molto meno efficace, a mio modesto modo di parere Vencato Con Cusin che si tira indietro Vencato dentro, lasciali tutti Vencato Alla fine, in qualche modo, Torino controlla questo pallone E lo gestisce con Kennedy che va in retromarcia Poi va dentro Vare! Sì, pote! Pepe Leggio arresto Di nuovo come i vecchi tempi Thomas Che spuole a Gianni Anni Poser per Pepe Che ribalta Alla Pepe Per Thomas Un'esecuzione Di livello per questo attacco Fa vedere anche la sua notevole E finisce così 8-7 Sì, è un'unica Torino vince Di 16 Sì, è un'unica